Non mi faccia perdere tempo che è pieno di gente che sta male. Beh, cos'ha? Ah, sento questo dolore al ginocchio. Mi prepari la sala operatoria. Ma cosa? Ma perché? Ha detto che le fa male, no? Sì, vabbè, ma prima vediamo cos'ho. Mi prepari la sala di radiologia. Ma prima non dovrebbero visitarmi. Senta, ha detto che le fa male, no? Sì, 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 mi fa male, ma magari non è anche così tanto. Oh, ecco, questo è un buon segno. Ma perché? Ma che dice? Che sta già meglio. Prego, si accomodi e aspetti il suo turno. Tutto bene? Beh, no, se sto qui non direi. No, solamente mi fa male il ginocchio da due giorni. Eh, si fa presto a dire ginocchio. Sono vent'anni che lavoro qui. E ne ho viste di cose io. Che tipo di dolore senti? Normale. Intendo, è il femore o la padella. Chi? O il perone. Non lo so, non... O magari il menisco laterale o quello mediale o la cartilagine articolare. Può essere. Sono sicuro che si tratti dei legamenti. Sicuramente. Prego, tocca a lei. Sì, a dirci. Ne ho viste tante io. Sento, questo dolore ha il ginocchio. Eh, no. Eh, no, non lo vedo affatto bene, no. No, non mi dica che devo operarmi. Sì, ma è molto pericoloso. Ma come, cosa? No, non è affatto una buon idea, no. Che cos'ho? Tuo padre ti vuole bene. Sì, ma che c'entra? Sì. Sì, ciao. 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 Ma mi scusi, è che c'è mio figlio a 12 anni, si è messo in testa e vuole fare budget jumping. Insomma, che le faceva male a lei? Ciao. Grazie a tutti.